Buon viaggio e buona serata da Firenze Smart e da Mauro Ciutini in studio. In A1 tra il Bivio, A1 Variante di Valico e Rioveggio, personale su strada per lavori in direzione di Firenze. Ci spostiamo adesso sulla Firenze-Pisa-Livorno, code in uscita provenendo da Firenze all'Astra-Signa. Sempre sulla strada di grande comunicazione, anche qui ci sono lavori tra Ginestra-Fiorentina e Monterupo-Fiorentino in direzione di Livorno. Ricordo sulla A1, lavori per la terza corsia nel tratto Firenze-Sud incisa, sarà chiuso lo svincolo di Firenze-Sud in entrata verso Roma dalla mezzanotte di lunedì alle 24 di domenica 12 marzo in modalità continuativa. In chiusura il treno 18-909 Firenze-Faenza viaggia al momento con 28 minuti di ritardo per l'attesa del transito di un altro treno. È tutto grazie alla collaborazione di Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.